benedizioni cari fratelli sorelli sono don claudio della missione ruach nel mondo e oggi il terzo la terza domenica del tempo ordinario gesù ci lascia questo vangelo da meditare riceviamolo come una gioia grande sapendo bene che gesù ogni domenica ci vuole che noi portiamo questo vangelo nel suo cuore nella nostra famiglia dal vangelo secondo matteo quando gesù 7 che giovanni era stato arrestato si ritirò nella galilea lasciò il nazaret e andò ad abitare a fachafarnaum sulla riva del mare nel territorio di zaboloni di neftali perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta isaia terra di zaboloni terra di neftali sulla via del mare oltre di giordano galilea delle genti il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce per quelli che abitavano in regioni e so ombra di morte una luce sorta da allora gesù cominciò a praticare e a dire convertitevi perché il regno dei cieli è vicino mentre camminava lungo il mare di galilea vide due fratelli simone chiamato pietro e andrea suo fratello che gettavano la rete nel mare erano infatti pescatori e disse loro venite dietro a me vi farò pescatori di uomini ed essi subito lasciandolo lasciarono le reti i seguirono andando oltre vide altri due fratelli giacomo figlio di zebedeo i giovani suo fratello che nella barca insieme a zebedeo loro padre riparavano le loro reti e li chiamò ed essi subito lasciarono la barca e loro padri e lo seguirono gesù percorreva tutta la galilea insegnando nelle loro sinagoghi annunciando il vangelo del reno e guarendo ogni sorta di malattie ed infermetà nel popolo parola del signore gloria a te o signore gesù cara sorella caro fratello gesù ci dice oggi come ha detto anche al popolo di nasa red convertitevi perché il regno dei cieli è vicino la conversione del cuore la conversione è il nostro interiore a mettere in centro della nostra vita a gesù è la cosa più importante che noi possiamo fare nella nostra vita conversione vuol dire anche metà noia venire entrare in uno stesso se stesso entrare dentro di te chiede dentro di te si c'è gesù se nel certo della tua vita della tua mente del tuo cuore della tua anima sta il nostro suo signore se nei tuoi pensieri pensa a lui se nei tuoi occhi guarda a lui se nella tua anima sta il latido del cuore del signore chiediti anche se gesù ti chiede oggi come ai apostoli che rispondi quando lui ti dice vieni dietro a me ti farò pescatore di uomini viene dentro a me prende la tua croce ama la tua vocazione e parla di me al mondo intero come l'ho insegnato ai apostoli lascia gesù sia colui che ti insegna come andare sulla questa vita lui percorreva tutta galilea insegnando nelle loro sinagoghe e anche guarendo ogni sorta di malattie e l'infermetà nel popolo gesù vuole usare la tua voca e il tuo cuore la tua anima la tua famiglia per guarire le ferite di questo mondo lascia gesù entrare nella tua vita lascia gesù correggere e convertire quello che deve convertire per ricevere un cuore dei bambini per poter essere anche quei bambini che saranno parte del cielo lascia gesù entrare nel tuo cuore nella tua famiglia avvicinate ogni domenica alla santa messa si poi ogni giorno prega al santo rosario e lascia gesù di dirti quello che devi cambiare per essere pescatore di uomini dio ti benedica nel nome del padre il figlio lo spirito santo e la vergine maria sia sempre con te grazie grazie